Vengono a me, pur di tutti i sessi e santo i tessi, e io vi darò il suo corpo, il Cessimo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore e il Signore, e con il tuo Spirito, dal Vangelo e il suo nome, gloria a te, alleluia. Gloria a te, alleluia. Alleluia, alleluia.